Oggi ci troviamo per il nostro progetto scuola a Verona in Stradone Sanfermo, posso dire nel cuore della città scaligera e ci troviamo in compagnia di Richard Collins. Siamo qui per parlare di un progetto molto interessante, il progetto doppio diploma di Mater Academy. E allora, Richard Collins non è soltanto il direttore di Mater Academy, è anche il direttore di lingua, è anche docente universitario e adesso ci spiegherà bene in cosa consiste questo bel progetto nuovo, perché è partito solo da un anno. Esatto, sì. Noi siamo praticamente sul territorio italiano da un anno, un anno e quattro mesi a dire il vero. Era un progetto che doveva nascere in primis a Milano, quando si prese la decisione a Miami di portarlo anche in Italia. Il paese pilota era la Spagna, sono partiti a Madrid, altre città, in Spagna hanno avuto ottime iscrizioni. Io ho un progetto di cui sono venuto a saperlo casualmente a Miami l'anno scorso, occupandomi ovviamente di didattica. Ho detto, beh, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, non partendo da Milano o Roma, che erano poli un po' più forse ambiziosi, ma partiamo da Verona, visto che io comunque vivo e insegno a Verona. Ci sono partiti in maniera ottimale, da un anno a quattro mesi di distanza abbiamo 208 iscritti in zona. Forse è il caso di spiegare cos'è questo doppio diploma. Assolutamente sì, spieghiamolo a tutti i ragazzi che magari decideranno di iscriversi qui l'anno prossimo. Il doppio diploma è un percorso didattico dove permette al ragazzo italiano di seguire il suo percorso liceale per tutti i cinque anni in Italia. In simultaneo però segue delle lezioni online, vive, tramite Skype o un altro operatore che si chiama GoToMeeting, dove ha appuntamenti col suo docente e fanno lezioni con docenti americani, ovviamente nel pomeriggio, quando le ore di liceo sono terminate in Italia, anche perché il fuso orario permette al problema solo di queste. Non lo consentirebbe. Accademica, che è l'ente che dà il diploma riconosciuto in tutti gli Stati Uniti, è un'ente che l'ha sviluppato anche all'estero. L'Italia è il quarto paese fuori degli Stati Uniti che sta promuovendo questo progetto e praticamente funziona che il 75% dei crediti che i ragazzi fanno in Italia vengono convalidati dall'ente statunitense. Certo. Che sarebbero 24 crediti per ricevere un diploma statunitense. Non voglio essere troppo tecnico, però è perdona di capire il numero come funziona. Di quei 24 crediti, suddivisi in 6 per anno, perché il liceo statunitense è solo di 4 anni, 18 vengono convalidati dal percorso italiano fatto dal ragazzo. Gli altri 6 crediti, cioè il valore di un anno suddiviso in 4, 3 o 2 anni, viene fatto con queste lezioni con loro docente online dal vivo. Poi compreso c'è anche un viaggio a Miami, per chi vuole andare, di fare due settimane presso il liceo Mader Academy, o nell'estate tra il terzo e il quarto anno, o il quarto e il quinto anno. La cosa importante è quindi, alla fine di questo percorso di studi, sia, come dice la parola stessa, un doppio diploma, un diploma che è assolutamente riconosciuto in Italia come un diploma tradizionale, e un diploma invece riconosciuto anche all'estero. Esatto, cioè il doppio diploma, ci sono licei che offrono diplomi che sono un po' ibridi, eccetera, questo permette al ragazzo, negli stessi anni di studio, di avere due diplomi, uno italiano, che ovviamente ha il valore europeo, e uno nordamericano, che comunque garantisce la conoscenza dell'inglese a livello C1, e questo è già un fattore positivo, perché se no ogni due anni un ragazzo, anche adulto, deve dimostrare tramite certificazioni di sapere l'inglese. Due, è molto importante nel progetto, è che tutto viene fatto informaticamente, perciò si chiama Learning Management System, cioè il computer non è più visto come mezzo per Facebook o messaggi, per giocare, per perdere tempo, ma lo strumento lavorativo, dove i ragazzi fanno le loro ricerche tramite il Smithsonian Institute, tramite il Library of Congress, le biblioteche disponibili che sono online, hanno quello che si chiama anche un progetto Ave Amici, cioè i ragazzi spagnoli, italiani, giapponesi, israeliani, costarichensi, argentini, che fanno parte del progetto, studiano insieme i loro compiti, è chiaro che poi quando hanno i loro collegamenti, non solo parlano di materie scolastiche, ma possono parlare anche di video game, di calcio, e di quant'altro. Ma è tutto in inglese, è un'aula virtuale, però non in autoapprendimento, sempre in confronto con persone vive. E quindi anche nel momento in cui ci fossero dei dubbi o delle perplessità, si possono assolutamente chiedere e domandare ai docenti. Esatto, loro hanno tre giorni a settimana che possono comunque interpellare il loro docente quando vogliono e due giorni a settimana con appuntamento, cioè fanno il compito, una cosa che è abbastanza fiscale e che i compiti hanno delle scadenze specifiche, perciò a volte non c'è afflessibilità che sia in altre zone e il ragazzo deve abituarsi che se il compito deve essere consegnato giovedì 18, giovedì 18 si consegna, se no arriva un'email dal docente dicendo... Eh, una tirata d'orecchie, insomma. A proposito di docenti, io so che adesso ascolteremo la voce di Daniel, che viene direttamente da Miami, e anche la voce di uno degli studenti che ha deciso di intraprendere questo percorso di studio. Noi ci ritroviamo invece alla fine di questi contributi per cercare di spiegare ai nostri ragazzi come ci si può iscrivere qui a Mater Academy. The irony of overseeing a program like this is when I was a teacher in the traditional classroom, I was always anti-technology, and now I am the director of a program that relies on technology to connect students across the globe. And I think the funny part for me is that I was always very apprehensive about the role of technology in our lives. I saw it as really complicating a lot of times more than it helped. And I take a lot of that apprehensiveness and cynicism with me so that we're not just focusing on what life will become in the future, but we're taking with us along the way the best parts of where we've been. So as we build this program, it's really not to replace the aspects of all of our lives that are most meaningful, the things in humanity that can never be replaced, which is ultimately our relationships, our intimacy, our local connections. What we want to do with a program like this is allow students to do the things that until 20 years ago, they never could have done. that for most of human history, people lived and died within a two-mile radius of where they were born. And now through technology, we have the ability to connect students in Verona with students throughout Spain and South America and the United States, the Middle East and the Far East. And this is something that could never have happened to see students collaborating with each other, challenging one another, learning from one another, all in an English immersion program that relies on 21st century technology to connect people. I'm the first one to think about the impact of technology on our lives. For us, it's not about replacing the Italian model of education. Far from it, we know that the Italian schooling model in many ways does things much better than we do in the United States. What we want is not to replace the Italian school model, but to complement it, to supplement it, to give students here in Italy what they would not necessarily have access to so they can become truly innovative, creative and successful professionals for the 21st century. Ho scelto di fare questo programma doppio di diploma perché mi permetteva di prendere il diploma americano. Così potrò essere riconosciuto come uno studente americano se in futuro volessi andare a studiare in un'università in America. Questo doppio di diploma mi aiuterà a migliorare il mio inglese perché in un futuro lavoro, come per il mio caso, mi piacerebbe diventare un medico, mi aiuterà a operare in tutto il mondo. Quindi mi sembra un'esperienza molto utile e produttiva. Con questo programma quest'anno ho potuto partecipare a un'esperienza stupenda. Siamo andati infatti con il gruppo del doppio di diploma a Miami per due settimane. Lì siamo andati in una scuola, si chiama Mater Academy. Ci siamo divertiti molto e abbiamo conosciuto molta gente fantastica e mi sembra che l'anno prossimo ripeterò questa esperienza. Ancora in compagnia di Richard Collins per chiudere questo nostro appuntamento dedicato al progetto scuola e dedicato al doppio di diploma. Parlavamo prima fuori onda di borse di studio. Vogliamo accennarlo ai nostri studenti a casa? Perché lo stato della Florida, ovviamente il liceo con cui noi abbiamo gemellaggio è a Miami, lo stato della Florida ha garantito l'anno scorso gennaio mille borse di studio per i razzi italiani, di cui ne abbiamo ancora 240 rimaste che lo sono già assegnate per la zona. Perciò c'è una scadenza del 13 gennaio per chi volesse partire da quest'anno e le borse di studio sono ancora disponibili. Ottimo, quindi cosa bisogna fare per avere più informazioni? Magari fare qualche domanda più specifica riguardo a doppio diploma e Mater Academy? Beh, ovviamente noi siamo situati in San Fermo 21 e siamo qui tutti i giorni dalle 9 alle 19. Invitiamo i nostri studenti di Verona e provincia a venire quindi a prendere informazioni qui alla Mater Academy. Io ringrazio Richard Collins e tutti coloro che hanno partecipato a questo filmato. Ci vediamo al prossimo progetto scuola. Grazie a voi.